Isabella è una candidata figlia di questa terra, che sente quello che pensa la gente e che quindi porterà in Europa il sentimento popolare e quindi il sano realismo e il sano pragmatismo della gente di terra lombarda, che serve moltissimo a Bruccelli. Isabella è del territorio, Vannacci no? È della terra, non del territorio, corretta, domanda corretta che ha già una risposta. Ma cosa pensa di quello che ha letto Vannacci oggi alla stampa? Che non condivido, grazie. Ma la candidatura la condivide? Non è della Lega.